un albero genealogico se non ti è mai capitato di fare ti alleggo qui un pdf qui sotto in questo modulo in cui avrai delle indicazioni per andare a realizzare il tuo albero genealogico è davvero molto semplice però magari se alle prime armi così magari potresti sentirti un po perso persa oppure chiederti non so come si fa è troppo complicato i miei genitori non si ricordano niente ecco mano a mano che tu accederai a qualche ricordo piano piano la vita ne aprirà degli altri di ricordi e se tu entrerai piano piano in punta di piedi a livello dell'anima del tuo albero genealogico e ponendo amore verso le persone venute prima di te loro ti assisteranno e ti aiuteranno nel cammino di questa ricerca proprio se puoi ti invito a prendere proprio due fogli due fogli a 4 e che andrai ad unire con uno scotch oppure se hai un foglio a 3 oppure un cartoncino quello che ti è più comodo e solitamente per i maschi si va a indicare con un quadrato blu mentre per le femmine è un cerchio rosa indica proprio i nomi e può iniziare da tu e magari i tuoi fratelli le tue sorelle e indica se ci sono delle morti premature nel caso tu lo sappia oppure a mano a mano e quando andrai ad accedere magari a qualche informazione relativa ai tuoi parenti e fallo sempre da una posizione di amore se vedi che comunque non riescono a dirlo perché solitamente tutto ciò che ha provocato e dolore sofferenza è stato motivo per cui proprio c'è stato un distaccamento dall'anima ecco questo è proprio un motivo di silenzio quindi spesso queste memorie non vengono non vengono non vengono ricordate quindi piano piano e con tutta la tranquillità del caso e inizia dai tuoi fratelli da te delle tue sorelle e piano piano e dai tuoi genitori una cosa molto importante e poi dai tuoi nonni e così via una cosa molto importante e cerca di realizzare una tua leggenda oppure la troverai qui allegata nel pdf dove troverai collegamenti e sarà molto importante ad esempio segnalare non so con una riga unita e magari se sentivi una connessione magari è forte di amore non so ad esempio tra i due i tuoi genitori oppure tra di loro sentivi rabbia allora magari potresti indicarla una linea tratteggiata e indica una leggenda a te più chiara per chiarificare per chiarire alcune indicazioni se il collegamento tra le persone era un collegamento d'amore oppure sentivi rabbia o sentivi non so magari c'è stato una separazione ecco proprio queste informazioni saranno utili per la tua ricerca e per andare a riscoprire una grande delle grandi informazioni che ti porteranno davvero guarigione per la tua anima e così potrai andarle a portare nel mondo nella tua relazione nelle persone che tu vorrai fare entrare nella tua vita e trovi ti invito a scaricare l'allegato che trovi qua sotto per iniziare a realizzare il tuo albero sacro a presto